L'uomo col melone? Era poi l'uomo? Vi ho scritto il dottore col melone. Il giardino conosce l'ombra giusta, l'inclinazione del sole porta alla pacatezza dei ripensamenti. Siamo stati fortunati, hanno lavorato per noi giardinieri fantasiosi, innesti sorprendenti, rubigne, campanule, ortenzi, riposanti colori fiamminghi ai ruoli rinascimentali. Verso la cancellata, il territorio ambiguo dei confini, spuntano generosi frutti per dissetare l'implacabile arsura di vita. Ci sarà davvero il paradiso? Abbiamo cercato di odomesticarlo. Ci viene incontro il dottor Marchesi e felice, si sente a suo agio, un bambino dall'anima curiosa, porta con sé un melone, sogna di giocare la partita con Peppino Meazza. questo è quello che mi ha ispirato la vita di Montrano, il sogno, può venire, viene il mio allievo, lui è stato davvero un mio allievo, ho avuto un commento per tre anni, ha sentato stati anni fa, sulla sala del sorpasso. Prego, Riccardo Cavallo. Grazie a tutti. Io, tra l'altro il professore, non ho colto un'ispirazione particolare da un brano, piuttosto che da un passaggio di testo, ma semplicemente mi sono limitato a seguire la corrente, la musica di cui davvero vi ringrazio, siete eccezionali. Iniziamo con gli intervalli, qualcosa di semplice, scivoliamo piano in un'atmosfera di conforto, ci sono solo amici intorno, sono tutti senza ancora un nome, ma facili da riconoscere, la musica parla per loro, dopo tutto. Le corde del basso urlano forte, fremono appassionali sul dolce vibrare dei piatti, trema anche la terra, ma ora non distrarti. Lo vedi il cielo, con questo canto di tastiere, il mondo tutto rimbalza sulle ginocchia di uno spazio vuoto, e il cielo arriva ovunque, puoi toccarle in un respiro. Il vortice delle note ci trascina entrambi, con le mani strette, su, ancora su, fuori da ogni zona di pericolo e pensiero, e poi fuori rotta, nel firmamento. E l'acqua su, che ci importa? Se io fossi invecchiato o tu fossi solo distratta, i nostri amici di mai ci spingono ancora, ogni nota ormai è in fiamme, o forse è il mondo. Che ci importa? Finché la batteria nulla, segui il ritmo coi tuoi battiti. Sono solo mille anni, avremo tempo di applaudire i nostri amici di mai, quando torneremo giù. la città, la miseria, l'ardone, e poi la città, la miseria, l'ardone, desiderio indistinto, citando Giorgio Fontana, all'incirca, sul jazz. L'uomo moderno non trova più senso, ma nostalgie impronunciabili e inequitabili eterotopie, nell'agro dolce percussivo, prendono corpo in ossessione di ritmi, lanciati in traiettoria contro il buio. Tutto perfetto insieme a reatorio, nel jazz citando di nuovo Giorgio Fontana, all'incirca. E là fuori ci sono la città, e la miseria, ma qui soprattutto l'ardone, anche in scivoli lamentosi. E fuori, work in progress l'autunno, e in questa cella vattata, respira qualcosa che incide le sere, ancora e sempre calda nella città.